Civil Week 2024 siamo a Legnano con Maria Rosa e Gigi che siete sposati da 53 anni ognuno lo dice con una mood diverso insomma ma sono così uniti che cosa fate? oltre adesso siete in pensione avete del tempo, avete deciso di dedicarlo agli altri, come? allora in effetti è da 35 anni che lo stiamo dedicando agli altri quindi ben prima di andare in pensione esatto nel 1989 abbiamo costituito questa associazione con altri soci fondatori che si chiama AFAMP, associazione famiglie amici malati psichici che ha sede appunto a Legnano di cui tu sei presidente esatto io sono sempre stata volontaria e nel 2015 sono diventata presidente di questa associazione e senti un po' adesso facciamo un po' vedere che cosa c'è intorno così ci spieghi perché oggi ci troviamo in un parco, avete deciso insieme a Fondazione Comunitaria Ticino Olona di partecipare alla Civil Week, per fare che cosa? ecco diciamo che per collaborare l'anno scorso abbiamo fatto un patto di collaborazione con il comune di Legnano perché visitando il parco e facendo dei piccoli picnic abbiamo realizzato soprattutto i nostri associati hanno realizzato che i tavoli erano veramente impresentabili per fare dei picnic o per fare qualsiasi altra cosa e allora abbiamo fatto questo patto di collaborazione di cui oggi con Civil Week stiamo praticamente decorando dopo aver fatto vari interventi ai tavoli di pulizie e quant'altro dei giochi su questi tavoli che possono essere abbastanza determinanti per la frequentazione dei cittadini della zona intorno al parco Robinson e anche dei bambini di coloro che vogliono partecipare oppure diciamo godere di questo bel parco e di quanto stiamo realizzando quindi insomma un grande lavoro di volontariato che poi nel tuo caso ormai è diventato un lavoro a tempo pieno ma io direi di dare una parola anche a Gigi perché Gigi ha fatto un lavoraccio cioè guardiamo che cosa ha realizzato Gigi raccontaci che cosa hai fatto allora inizialmente mi sono dotato di generatore elettrico abbiamo usato l'acqua del parco di quella colonnina e con questo collegando una pistola idropulitrice abbiamo pulito i tavoli che erano prima conciati quindi che scritta c'è per quale l'ho scritta fatta con l'idropulitrice questa scritta l'ho fatta con l'idropulitrice per ricordarci e anche per chi viene a vederci per farci vedere il prima e il dopo ci siamo esatto grazie invece qui andiamo a vedere che bello qui una volta puliti i tavoli a dovere più di una volta perché erano conciati come quello abbiamo trattato con una vernice speciale al quarzo e poi abbiamo iniziato a disegnare qualcosa la prima cosa che abbiamo fatto è questa scacchiera che servirà per giocare a damo o a scacchi alle persone che verranno mentre sull'altro tavolo abbiamo già tracciato un gioco tipo circuito automobilistico di Monza e oggi andremo avanti con la realizzazione perché per dare così la possibilità ai ragazzi che vengono con la loro macchinina e si mettono a giocare bellissime, belle idee queste idee sono frutto anche della collaborazione con il nostro artista come ti chiami e come stai vivendo questo momento della Civil Week? mi chiamo Matteo questo momento sto vivendo bene perché mi sto divertendo e anche con gli altri ragazzi che sono qui a collaborare che verranno a pomeriggio per colorare appunto quel gioco simile al gioco dell'oca più o meno e sì ci siamo tutti impegnando per fare questi lavori e speriamo che tanta gente venga qui a usufruirne bravissimo grazie quindi buon lavoro buona Civil Week e vi aspettiamo tutti al Parco Robinson di Legnano